SIGEP 2024, ci troviamo in compagnia dell'area sales manager Giorgio Mosca presso lo stand di IMF, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora iniziamo subito col parlare dell'anno passato, quindi come è andato il 2023? Dunque il 2023 è stato un anno di grandissimi successi, diciamo che è stato un po' anche l'anno della ripresa post pandemie varie e effettivamente abbiamo avuto una crescita del 30% nel fatturato e quindi siamo molto soddisfatti di come è andato l'anno. Abbiamo espansi mercati in diverse aree, vanno molto forti i mercati orientali, in primis la Cina, che per noi è il mercato di riferimento e gli Stati Uniti, che comunque stanno portando ottime soddisfazioni in termini di clientela, espansione del mercato e quant'altro. Benissimo, e in virtù di questo il 2024 come si apre a partire proprio da questa fiera naturalmente? Ci auguriamo che il 2024 sia un anno di ulteriore crescita e abbiamo di fronte a noi una lunga lista di eventi, di fiere internazionali in giro per il mondo, come ho citato poco fa, appunto Stati Uniti e Cina, ma non solo, ovviamente anche nel Medio Oriente e per non parlare poi anche del mercato australiano, che per noi è comunque un punto di riferimento, specialmente nell'ambito dei caffè di altissima qualità, dove noi tanti anni che siamo presenti sul mercato abbiamo una grandissima soddisfazione dei clienti e anche nostra, insomma. Ottimo, allora in bocca al lupo per quest'anno. Grazie, grazie dell'in bocca al lupo.